La situazione è che ad oggi non sappiamo niente, è incredibile come da novembre dell'anno scorso non abbiamo risposto, non abbiamo certezza, non abbiamo nulla. Abbiamo cercato di parlare con l'assessore Linda Meleo già a settembre, ci abbiamo parlato, non ci ha dato nessuna rassicurazione ma neanche nessuna speranza. Quindi non sappiamo nulla, desidereremo avere qualche informazione e soprattutto qualche certezza. Grazie